Il sindaco non cada nella facile tentazione della contrapposizione, ma con autorevolezza apra un nuovo corso facendo valere con il manager Tordera le proposte votate in consiglio riguardanti la ritmologia, unità territoriale di anestesia e rianimazione, alta specialità in ortopedia, nella traumatologia e raccolga l'utile suggerimento pervenuto dal dottor Verrocchi sulla senologia. Così il cavogruppo di Avanti Sulmona Fabio Pingu all'indomani della paventata sottrazione di personale all'ospedale di Sulmona, smentita dopo poche ore dal direttore generale dell'ASL Rinaldo Tordera. Per Pingu è pericoloso recitare troppo a lungo la parte del nobile decaduto. Sul tema dell'ospedale, che non riguarda solo Sulmona, ma un comprensorio ben più ampio, bisogna con tenacia perseguire la linea del confronto con l'ASL. Che ci sia un confronto ed è giusto, a mio avviso, che per il ruolo di consigliere che io svolga lo ricordi, diciamo così, al sindaco. Non bisogna assolutamente sottomettersi. La linea di confronto deve essere incentrata sul migliorare il presidio ospedaliero. È il tempo per cui l'ASL rispetti gli impegni contenuti per Sulmona nel decreto commissariale e dia seguito in maniera immediata a dotare i reparti delle adeguate competenze professionali e tecnologiche di cui il nostro presidio necessita ormai da troppo tempo, rimarca il capogruppo di Avanti Sulmona, che conclude. Non dobbiamo chiuderci alla volontà di lavorare. In un'ottica di ASL provinciale, in sinergia con tutti gli ospedali in essa compresi, ma rimane ferma l'esigenza che il manager valorizzi i presidi di Sulmona e Castel di Sangro per gli impegni assunti. Il manager deve sapere che l'ospedale di Sulmona e quello di Castel di Sangro non sono mai stati valorizzati ed è compito della politica ricordarlo. Io faccio politica, sono un consigliere comunale di Avanti Sulmona ed è giusto che su questi temi ricordi che alla città e non solo al sindaco che la linea del dialogo, del confronto politico deve essere la linea da perseguire.